Secondo classificato era mercato e competitività per lo sviluppo di una cultura comune per il miglioramento delle figure professionali e aziendiali stiamo parlando ancora di Unipol, il progetto si chiama Laboratorio Unipol Innovation Unipol SAI Assicurazioni. Un applaudo, grazie. Perfetto, è stato un progetto su Giovani Talenti Under 35 dell'azienda, lontani dal business, volevamo formarli sulla capacità progettuale, ci interessavano progetti per il business. Una cavalcata di sei mesi che ha portato a 15 progetti per il business da chi non è dentro e quindi sono stati interessanti proprio perché non lavorano tutti i giorni a contatto, era disruptive proprio il processo. Buongiorno a tutti, secondo me il significato sta proprio nel termine, cioè laboratorio di innovazione, che cosa significa? Le persone hanno potuto sperimentarsi, sperimentare proprio le loro competenze sia a livello individuale, mi piace appunto definire competenze, prima l'abbiamo detto, competenze trasversali sia a livello individuale sia come team e tutte con un unico obiettivo, l'orientamento al business. Il valore ha aggiunto poi anche la figura di supporto, delle figure di mentori, cioè ovverosia delle persone che in azienda ricoprono un ruolo, sono a capo appunto di determinate strutture, unità, direzioni che li hanno potuti supportare proprio per far sì che fossero più orientati, più focalizzati verso l'obiettivo che dovevano raggiungere. Grazie, buongiorno a tutti, cosa molto bella di questo progetto divertente, stimolante, vario e che penso possa essere interessante è anche stata l'apertura, perché è stato un progetto che ha portato veramente in un'ottica di apertura, di scambi di esperienze a collaborare fra Unipol e altre grandi società come Barilla, Samsung, Sky e Ducati. Molto interessante, noi spieghiamo sempre che ci sia un clima di collaborazione fra le grandi aziende, fra voi che siete rappresentanti di questi... Sì sì, è stato quando apri, quando allarghi, quando crei stimoli differenti e poi cerchi di creare similitudine, fai sempre cose belle di solito. Perfetto, grazie mille.